La scuola dell'infanzia Emilio Dottondi di Zoagli è un istituto paritario cattolico, calato all'interno del sessuto della parrocchia che lo gestisce. La formazione dei bambini non si limita quindi all'aspetto pedagogico ma cerca di offrire una testimonianza più ampia. L'impronta cattolica si vede innanzitutto dall'attenzione particolare che tutto il personale ha con questo spirito direi che ci suggerirebbe Gesù verso i bambini, quindi un'attenzione particolare fatta non solo di umanità ma anche di trasmettere qualche messaggio che sia al di là della stessa vita di tutti i giorni. Questo non vuol dire essendo una scuola aperta a tutti, naturalmente abbiamo bambini che hanno anche in casa o hanno fatto delle scelte diciamo o di fede o comunque ideologiche diverse, quindi noi tendiamo non a dare un'impronta che sia come dire essendo cattolica tutti devono essere come noi, però il nostro essere cattolico vuol dire proprio questo dialogo con tutti, ora la maggior parte dei bambini sono cattolici, però anche verso chi non lo è e devo dire che ringraziamo anche i genitori di questi bambini, sono anche loro molto entusiasti di ciò che facciamo per tutti questi piccoli nostri diciamo amici che cerchiamo di aiutare nella crescita, quindi un'impronta che vuol dire soprattutto umanità e il messaggio di Gesù che passi anche come un messaggio di umanità, di attenzione all'altro, di comprensione.